Il rischio idrogeologico nel Sannio c'è e in pochi casi si è visto. Foglianese e Sant'Agata dei Goti, ma la stessa contrada Gran Potenza a Benevento è la strada di contrada Seretele che nei giorni scorsi ha ceduto totalmente. Nel territorio beneventano il dissesto idrogeologico è dovuto a vari tipi di rischio per frana ed erosione del suolo, principalmente nelle aree dell'Appennino Meridionale, per allagamento ed esondazione a seguito di eventi meteorici eccezionali concentrati soprattutto nelle aree di Piana, per subsidenza, per l'eccessivo, cioè emungimento delle acque sotterranee. A Foglianese sono già cominciati i lavori per la messa in sicurezza del Monte Caruso da cui nel marzo scorso si staccarono dei massi costringendo 19 famiglie ad abbandonare le proprie case alla Gran Potenza, mentre la situazione ancora non risolta, il terreno continua a cedere. Un recente studio del Ministero dell'Ambiente ha consegnato una fotografia precisa della situazione geologica meridionale. Con quasi 24.000 frane R4, vale a dire ad altissimo rischio, la campagna presenta zone di criticità pari al 19%. Dati alla mano, nella nostra regione le frane coinvolgono oltre 973 km2, vale a dire poco più del 7% del territorio regionale in frana, attiva o quiescente. Le province con maggiori criticità sono Caserta, Vellino e Napoli, ma Benevento non è esclusa.